Uè, rimbambì, rimbandito, ma davvero non si difa Italia? Noi, gli interi siti hanno distrutto la vita. Ma meglio così. Meglio così perché soggetti come te non li vogliamo e sarà ancora più godurioso vincere. Sono già chi prendere per il culo se vinciamo. Il ribandito rosso-nero è l'uomo delle tabelle. Vediamo, vediamo. Poi ci divertiamo, piano piano. Keep calm. Non vi vergognate. Essere italiano e non ti fare la nazionale. Ma per davvero. Ma per davvero. Ma per davvero. Poi non è che posso capire, ma almeno gli Juventini hanno una cazzo di scusa che è sbagliata anche così. Però una scusa ce l'hanno. Ma il milanista per cosa cazzo non ti fa Italia? Tutti dovremmo tifare Italia. A prescindere dai colori e dalle squadre. Siete veramente la vergogna. Siete veramente la vergogna di questa nazione. Davvero. E io, dato che non ti fate Italia, tutti fuori dai coglioni. Fuori dall'Italia. Andate, andate. Fuori dal cazzo. Voglio vedere. Ah, bello. Davvero. Vivi in Italia. Sbaffi. È vero? Piace, eh? Vergognatevi, va là. Oh, raga, stasera. 8.50. Super derby in casa del Doc. Il Doc contro Sara. Italia-Spagna. Vi aspetto, eh. E iscrivetevi al canale, va là.